Valigie Carpisa, catalogo 2011, prezzi. La collezione delle Valigie Carpisa 2011 ha una testimonial d'eccezione ed è Tania Cagnotto, la tuffatrice azzurra. Lo spot andrà in onda sulle principali emittenti televisive dal 22 aprile al 7 maggio e il messaggio che si vuole dare è il connubio tra forza e leggerezza, caratteristiche principali delle Valigie Carpisa. La collezione di Valigie Carpisa 2011 dà la sensazione di essere grintosa, sportiva, ma allo stesso tempo elegante e sofisticata, come ben emerge da alcuni tessuti e fantasie. I prezzi di queste Valigie non è per nulla eccessivo, infatti se guardiamo il nuovo Trolli in blu con fantasia a fiori e tartarughe, peso 3 kg, ha un costo di 60 euro nella dimensione large. Se il tessuto diventa semirigido, il prezzo sale leggermente e si arriva agli 80 euro nelle dimensioni 45x71x27. Se si opta invece per un Trolli rigido con fantasia che potremmo definire piscina, disponibile anche in grigio, pastelle e blu, il prezzo sale fino a 100 euro. Oltre ai trolli di diversi tipi e tessuti, la collezione Carpisa 2011 presenta anche diverse borse, con prezzo intorno ai 30 euro e borsoni, dotati sia di rotelle che senza, con prezzo che si aggira attorno ai 50 euro.